Musica Bentornati nel nostro spazio informativo del Consiglio regionale dell'Abruzzo. In apertura parliamo della conferenza stampa tenuta dal Presidente Nazario Pagano in occasione della quale è stato presentato il rapporto sullo Stato della legislazione. Numeri positivi e qualche criticità, come ci dice il Presidente Pagano. Ma devo dire che è stranamente lusinghiero. Come numero di leggi approvate, come numero di progetti di legge presentati dai Consigli regionali e dalla Giunta, come rapporto particolarmente lusinghiero per il Consiglio regionale tra leggi approvate di iniziativa del Consiglio regionale rispetto a quelle di iniziativa della Giunta regionale. Cioè l'Assemblea legislativa d'Abruzzo si distingue rispetto ad altre regioni italiane come un vero e proprio Parlamento regionale, dove i Consigli regionali sono comportati come dei veri e propri parlamentari regionali. Presidente, però restano ancora delle criticità, soprattutto per quanto riguarda il contenzioso legislativo. Sì, è vero. Abbiamo avuto un certo numero di impugnative da parte del Governo nazionale su leggi e su articoli di legge che il Governo riteneva fossero dei veri e propri sconfinamenti di materia su argomenti statali. Non si ferma in Consiglio regionale la polemica sulla mancata introduzione anche nella legge elettorale abruzzese della doppia preferenza di genere. Le consigliere Alessandra Petri e Marinella Sclocco hanno criticato la scelta della conferenza dei capigruppo di escludere dall'ordine del giorno il prossimo Consiglio regionale la discussione del progetto di legge. Ascoltiamo la consigliera del Partito Democratico, Marinella Sclocco. Chiaro a tutti quanti che perlomeno i capigruppo di questa maggioranza o la maggioranza dei capigruppo di questo Consiglio regionale vuole per prima escludere le donne perché di nuovo noi avevamo presentato insieme alla consigliera Petri e alle altre colleghe un emendamento per rintrodurre la doppia preferenza di genere e di nuovo la conferenza dei capigruppo ha bocciato questo emendamento dimostrando ancora una volta l'avversione nei confronti delle donne che ormai in tutta l'Europa e anche in diversi paesi del mondo hanno acquistato la pari dignità e la pari opportunità e la loro rappresentatività nelle istituzioni. E ora voltiamo pagina. Il Vice Presidente Vicario del Consiglio regionale Giorgio De Matteis è intervenuto sulla fusione tra Carispa e Banca Popolare dell'Emilia Romagna. Il Vice Presidente De Matteis chiede garanzie per il territorio aquilano. Io ho ricevuto nei giorni scorsi una lettera da parte della Cassa di Risparmio che è indirizzata a me e a tanti altri rappresentanti di istituzioni nella quale si citava la situazione di un'associazione culturale della nostra città che normalmente accedeva al credito della Cassa di Risparmio e a questa associazione che peraltro è una delle più prestigiose della città con un bilancio sano, conosciuta in tutta Italia, veniva negato questo credito perché le garanzie che la stessa associazione avrebbe dovuto portare non erano sufficienti. Cosa incredibile. Si riferisce naturalmente questa lettera anche alle provvidenze della regione Abruzzo che per legge, ovviamente trattandosi di un'associazione culturale che accede al Fuzzo, cioè al Fondo Unione dello Spettacolo, sono dovute per legge. Quindi, diciamo così, un atteggiamento scorretto nei confronti della regione, scorretto nei confronti della città e di questa associazione. Mi preoccupo anche naturalmente di quello che potrà accadere per tante altre prestigiose associazioni della nostra città. La seconda commissione permanente, preseduta da Luca Ricciuti, nei giorni scorsi ha tenuto una seduta a Balsorano, nella Valle Roveto, per conoscere i danni sul territorio provocati dal dissesto idrogeologico. La riunione è stata preceduta da una serie di sopralluoghi nei centri della Valle Roveto, interessati dai numerose frane e smottamenti provocati sia dal maltempo dei mesi scorsi sia dal dissesto idrogeologico del territorio. Sono stati ascoltati in audizione, come vedete dalle immagini, sindaci e consiglieri comunali di Civitella Roveto, Balsorano, Morino Canistro, Civita Dantino e Castella Fiume, oltre ai consiglieri provinciali Mauro Rai e Giovanni Tuzzi. All'unanimità, riferito il vicepresidente della commissione Giuseppe Di Pangrazio, promotore dell'iniziativa, è stato preso l'impegno a sostenere la programmazione prevista nel piano d'aria dei comuni della Valle Roveto e della Valle dell'Iri, oltre a valutare l'applicazione di parametri diversi per l'erogazione di servizi nei comuni montani, che non possono certo essere equiparati ai centri costieri. Parliamo ora di trasporti. Buone notizie arrivano dall'aeroporto dei Parchi dell'Aquila, che a breve ospiterà anche il primo volo. Vediamo. L'aeroporto dei Parchi è pronto a decollare. Nei prossimi giorni sarà attivato il primo volo ufficiale in partenza dallo scalo aquilano, mentre l'ENAC, l'ente nazionale di avviazione civile e notizia di queste ore, ha comunicato che depositerà la certificazione obbligatoria per avviare i voli commerciali. L'obiettivo delle istituzioni locali è duplice, superare lo storico isolamento dell'area aquilana, attivando un collegamento con il nord e con le isole, e promuovere lo sviluppo economico dell'entroterra abruzzese. I lavori sull'aerostazione sono stati completati, ora stiamo ragionando sull'aspetto delle direttrici turistiche, del marketing e del business, ha detto Giuseppe Musarella, general manager della Xpress, la società che gestisce l'aeroporto dei Parchi. Lo scalo aquilano fu particolarmente importante in quel tragico 6 aprile del 2009 per trasferire i feriti del terremoto negli ospedali italiani. Ma non solo, l'aeroporto è entrato nella storia anche per aver ospitato gli aerei dei capi di Stato che arrivarono all'Aquila per partecipare al G8. Intanto, sul sito ufficiale dell'aeroporto è stato lanciato un sondaggio per scegliere la destinazione migliore. 1.650 persone hanno espresso sinora un giudizio positivo sulla nuova infrastruttura abruzzese, un dato che fa ben sperare per il futuro. Si conclude qui il nostro spazio informativo del Consiglio regionale, l'appuntamento con il TG Web e a giovedì prossimo. Grazie.